Ose, tecnico del, ha parlato con Dazon dopo il sorteggio ottenuto a Bologna, se Orsato ha detto qualcosa dopo Ibanes. Le persone possono stancarsi di me, di Ancelotti, ma siamo qui. È fantastico, possiamo dire quello che vuoi, anche sulla base di un risultato finale, vinci, ottieni settimi, per me è una stagione dei limiti di queste persone ed è davvero fantastico per me. Anche oggi partita difficile contro una squadra organizzata. È un pareggio solido, non sofferto. Con un rigore gigante. Vignaldum viene recuperato. L'ho messo fuori prima perché non volevo mangiare un'opportunità di scambio. I fan devono sentirmi. Quando eravamo secondi o terzi in classifica, ho sempre detto che dovevamo pensare al gioco successivo perché non avevamo il potenziale per andare fino in fondo con l'accumulo di stanchezza. Abbiamo sempre pensato a un gioco da game, lo dico da mesi. Cominciamo con la mia domanda, il fallo palomino a Dybala hai dato tanti replay rispetto all'azione di Camara oggi? Va sulla palla ma va lì con vera aggressività, è una decisione corretta e giusta. Questo gioco per me è un pride, squadra anche se interpreta un ragazzo da meno di 15 anni o se interpreta una ragazza della femmina, squadra non cambia sua professionalità, il suo cuore, sua empatia. Treslar oggi primo gioco, Missori il primo, Tairovic non ha giocato molti. La squadra ha giocato una buona partita.